L'Elena Bellardita, ricorsi, contro ricorsi, ricorsi storici, ma attualmente Gela ancora fa parte del Libro Consorzio dei Comuni di Caltanissetta e Catania attualmente si allontana. Sì, Gela attualmente si trova in una situazione di stallo, nel senso che fa parte del Libro Consorzio di Caltanissetta e nonostante gli annunci annuali ormai della presentazione di ricorsi a provvedimenti che sono lì ad uscire, ma ricordo che nel frattempo ne sono usciti a decine di provvedimenti, non esce mai quel provvedimento che è degno di essere impugnato. Ecco, ma da parte di chi dovrebbe essere impugnato il provvedimento? Ma mi pare che l'amministrazione comunale in persona del sindaco si era preso l'impegno principe di risolvere questa vicenda, ha nominato fior di avvocati, si è proceduto anche alla nomina di un assessore con delega specifica, per cui certamente l'attenzione sotto questo punto di vista non è mancata. Mancano i fatti, nel senso che alle nomine di fatto non è poi seguito null'altro. Ci sono stati tanti casi, il referendum nel primo episodio, poi c'è stata anche l'aggiunta che ha deliberato il passaggio di Gela a Catania, ratificato dal Consiglio Comunale, però come diciamo attualmente si muove realmente poco. Si muove il nulla, nel senso che agli annunci anche trionfalistici, annunci che sono stati fatti anche da parte di associazioni, però agli annunci poi di fatto non è seguito nulla. È giusto che la cittadinanza venga messa a conoscenza di come realmente le cose stanno, andare sui giornali, andare sulle televisioni e annunciare ricorsi di fide che poi non sortiscono alcun effetto con riferimento ai ricorsi, addirittura sappiamo con assoluta certezza che nessun ricorso ad oggi è stato presentato. Penso che la città di Gela non se lo meriti, la città di Gela si merita verità, si merita chiarezza e si merita soprattutto fatti.